Tante storie in una storia, quella della famiglia Carlucci a radici profonde, lontane nel tempo, ma sempre rivolte a piccolo paese non lontano da potenza, punto di partenza delle diverse generazioni nei decenni. Tanti gli incontri negli anni nelle varie parti d'Europa, più o meno vicino a dove vivono alcuni della famiglia, divisi tra Italia, Belgio e Francia. E ogni incontro, come quello dei giorni scorsi proprio a ruoti, riserva sempre qualche sorpresa nell'immancabile emozione di rivedere fratelli, cugini, zii, nipoti, che si vorrebbe sempre vicini. È bello perché ci si rivede dopo tanto tempo, magari con qualche cugino, non ci si ricorda, non si conosce qualche nipote che non si vede da quando erano piccoli, da vent'anni, e allora ritrovarsi qui ogni tre, quattro anni che riusciamo a fare questa festa, dopo c'è stata la pandemia che ci ha bloccato, quindi è una cosa, come dire, emozionante perché si ricordano l'infanzia, di quanti bambini che si giocavano con i cugini qui a casa del nonno, e poi si è cresciuti, molti abitano in Belgio, in Francia, magari non ci si vede da 15 anni, 20 anni, i nipoti che anche non si si ricordano, si vedevano cresciuti, insomma è un'esperienza molto emozionante. L'occasione è valida anche per festeggiare piacevoli anniversari. L'occasione sì, per festeggiare il cinquantesimo matrimonio di mio zio Ancelo, il fratello di mio padre, il più piccolo della famiglia, possiamo dire, e poi anche l'altra volta ci fu l'occasione del cinquantesimo anniversario di un altro zio, insomma si coglie l'occasione per fare più festeggiamenti. Giunta la quinta generazione, la famiglia Carlucci comprende oltre 200 persone, 90 delle quali hanno preso parte all'incontro a Ruoti, provenienti dalle città di Strasburgo, Genk, Liegi e Nizza, oltre che dall'Italia. Il più anziano di tutti è Angelo Carlucci, di 87 anni, ultimo nato degli undici figli di Francesco e Angela Scavone. La più giovane, la piccola Paolina, nata nel 2020. Fa sempre impressione, ricordare sempre i vecchi ricordi della gioventù, sono 70, sono partito da Ruoti nel 1950, il 4 novembre, sono stato in Italia, poi in 1970 sono partito all'estero, sono andato in Francia dove stavano i miei fratelli e le sorelle. Poi il 10 agosto del 1972 mi sono sposato, ho incontrato mia moglie attuale che è venuta in Francia per vacanze. Siamo incontrati, abbiamo detto qui e siamo qui. Nei giorni a Ruoti la benedizione nella chiesa madre, un pranzo tutti insieme e la consegna di una pergamena da parte del sindaco rappresentante di una comunità, quella ruotese, sempre felice di accoglierli. Abbiamo riunito questa famiglia come qualcosa di particolare che si terrà negli anni a venire, abbiamo anche istituito la giornata dell'emigrante e appunto questo è il senso, riunire la famiglia, riunire la comunità e insieme fare comunità.